I bug più strani e utili di StumbleGuys Questo forse è uno dei bug più noiosi del gioco Infatti StumbleGuys è noto per il fatto che puoi trapassare letteralmente qualsiasi superficie Pure il pavimento stesso E non sarà difficile che ti capiti questa cosa che stai vedendo Sulla mappa Hot Wheels una cosa che non tutti voi forse sanno E che si può andare letteralmente in contromano E il che è abbastanza particolare perché è una mappa dove dovresti poter andare solamente dritto Ma con un po' di fortuna si può andare in contromano ed essere dei pirati della strada Prima di farti vedere l'ultima cosa mi raccomando Iscriviti al canale e lascia un bel like per vedere sempre nuovi short e video Detto questo i bug forse più utili di StumbleGuys sono quelli che si possono trovare su Blockdash Che sono veri e propri bug ma noi li chiamiamo trick Siamo un po' particolari